Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. In questo veloce vlogghettino sempre a tema di giochi e di prodotti della Games Workshop vi vogliamo mostrare un pochino la nostra piccola collezione che abbiamo di giochi della GV ed è qualcosa di cui andiamo fieri veramente da morire perché è la nostra azienda di wargame preferita e ancora una volta per tutti i prodotti forniti ringraziamo la Gioco Libre di Assemble, il nostro negozio sponsor che vedete nota a video e anche sempre il primo link è in descrizione che ci ha fornito tutti quanti questi prodotti che ora vi facciamo vedere da vicino. Ah, non li vedrete nella vetrina perché dietro al Baby Yoda li abbiamo, tra l'altro bellissimo, Grogu li abbiamo spostati però qua dietro ci sono anche Warhammer, Age of Sigmar, Dominio e l'ultima scatola di Kill Team Octarius che vi ricordo ad andare a vedere nel video che abbiamo già caricato sul canale. Allora qua dentro in questa bella vetrina abbiamo un po' di prodotti della GV ovviamente c'è anche un po' di tutto perché dovrebbe essere anche la vetrina di Alien, qui abbiamo Alien, bellissimo, Another Glorious Day in the Corps, tra l'altro gioco bellissimo che ho già portato sul canale andatevelo a vedere. Abbiamo diversi titoli, alcuni ovviamente parlando sempre di Games Workshop che erano al tempo prodotti, fatti da una novella GV però poi dopo distribuiti dalla Milton Bradley che sono HeroQuest, scusate, il gioco più bello del mondo e sotto il secondo gioco più bello del mondo che è Space Crusade, non l'abbiamo in versione inglese o per meglio dire StarQuest che era la variante di HeroQuest praticamente nel futuro e nel Warhammer 40.000 che sono due giochi secondo noi i più belli mai esistiti e tra l'altro ancora oggi a distanza di 30 anni da quanto tempo sono usciti ancora giocatissimi, ci sono forum di gente che si raduna per andare a giocare a Space Crusade a StarQuest. Sotto abbiamo Overkill, un gioco che è uscito già da un 8-9 anni ed è veramente molto interessante perché noi useremo uno dei capitoli più belli degli Space Marine che sono la Death Watch e saremo in missioni chiamate a distruggere o annientare nidi del culto di Gene Stealer per andare a fermare ovviamente questa invasione sui vari pianeti ed è veramente bellissimo non c'è niente con le regole di Warhammer, non c'è il classico AB, AC, abilità di combattimento, ferite, discipline è proprio un gioco a parte però è un'ambientazione 40.000 Sotto Blackstone Fortress per la serie Warhammer Quest giochi già tutti se andate sul canale li trovate Warhammer Quest che è veramente stupendo ed è il Warhammer Quest ambientato dentro appunto una Blackstone Fortress che sono quelle strutture gigantesche che volano nello spazio a volte anche a cavallo con l'warp alla deriva e che sono infessate da ogni razza lena perché c'è talmente tanta tecnologia del mondo antico che chiunque vuole andare a prenderle e quindi sono, fate conto, queste specie di città immense volanti dove tutte le navi attraccano e dentro battaglie su battaglie un altro gioco molto interessante L'ultima uscita di Warhammer Quest città maledetta Cursed City che è la variante di Age of Sigmar spettacolo, si parla di vampiri praticamente ambientazione Transilvania a fare a botte ammazzolate con i vampiri per portare via i tesori e sopravvivere alla notte quando poi i vampiri si risvegliano e hanno il massimo potenziale spettacolare qua giù abbiamo un po' di scatole che vabbè sono un po' di scatole tipo la banda delle Esker di Necromunda che sono la gang preferita di mia moglie abbiamo un po' di Primaris ad esempio i Ravers scusate Space Marine non Primaris Guardia Tattica abbiamo i Thousand Sons che sono i figli del dio Zinch Zinch della Magia poi abbiamo vabbè non potevano non avere Robot Gilliman il Primarca bello degli Ultramarine e poi per miniature un po' più vecchie perché le hanno già aggiornate ma secondo me bellissime abbiamo di Warhammer e Age of Sigmar dei Chaos Warriors qui abbiamo un pochino di colori tra l'altro abbiamo i paladini degli Stormcast i Sanguinari di Corneo comunque del Chaos e poi della roba di Warcry e le Sister of Battle quindi la Depthas Ororitas scendendo qua sotto e spostando il Necronomicon mia moglie è fissata anch'io abbiamo un Vampire Lord di Age of Sigmar che è qualcosa di stupendo è veramente bellissimo e poi passando qua dentro abbiamo le tre scatole uscite che poi sarebbero quattro di Warhammer Underwards bellissimo gioco più due bande abbiamo la seconda scatola uscita la terza l'ultima ci manca la prima che sarebbe Shadespire comunque abbiamo un po' di roba anche di questo abbiamo il raccoglitore di Warhammer Conquest che sono quei numeri che penso sia finita la serie che uscivano in edicola regolarmente e poi di qua abbiamo il vecchio Kill Team che a parte per scenari cioè per elementi scenici e per le miniature nessuno gioca quasi più perché l'edizione è vecchia quindi è stato riaggiornato il regolamento con Octarius e questo non si gioca più questo lo lascio per ultimo Necromunda Dark Apricing la versione quella da 250 euro c'è uno scenario che è così io non scherzo c'è uno scenario che è così se l'ho montata in larghezza se l'ho montata in altezza è così cioè è immenso veramente costa tanto eh c'è la versione anche da 100-140 questa costa al doppio ma c'è uno scenario che vi... il tavolo ci giocate a Warhammer anche 40.000 per anni e anni e poi per me non esiste non esiste a parte levandoci Space Crusade e HeroQuest che sono una cosa a parte non si toccano però il gioco più bello che abbiamo fatto la Games Workshop ma più bello di tutti più di Warhammer più di Warhammer 40.000 tutto Space Hulk per me veramente è il prodotto più geniale che hanno fatto finora e infatti fra tutti i giochi usciti vedere questi Space Marine l'armatura Terminator dentro questi Space Hulk che vanno a combattere contro i Gen Stealer che sbucano delle fottute pareti per me poi è Alien praticamente per me questo è il gioco più bello imbattibile insuperabile che abbia fatto recentemente la GV e infatti questa che vedete qui davanti è l'ultima edizione è la quarta e per ora non hanno ancora annunciato una nuova una possibile quinta bonus e malus cioè cose buone e cattive della GV cose buone ogni prodotto che fanno è una garanzia ad esempio anche giochi un pochino più inediti tipo Overkill ma chi l'ha sentito non ha nemmeno venduto tantissimo e non segue le regole di Warhammer quindi dovete rimparare le regole per giocare però è un piccolo capolavoro la GV ogni prodotto che tira fuori è sempre un dannatissimo capolavoro però l'altro lato della medaglia è che il costo è giusto si va sui 130 150 ma sono pieni di roba e sono a tiratura limitata cioè questa scatola già non si trova più questa scatola dove era guerra delle anime già non si trova più città maledetta già è fuori produzione fanno una copia soltanto una tiratura e poi forse forse faranno una ristampa ma di solito si fermano soltanto alla prima e quindi un prodotto della GV o te lo prendi subito o rischi di comprarlo dopo al triplo del prezzo da qualche bagarino comunque questa è la nostra collezione e faccio anche questo video per annunciare che non di tutti questi giochi vi ci ho già fatto il video ma di quelli un pochino più old school tipo Space Crusade HeroQuest Overkill che inizia a avere quasi 10 anni anzi ce l'ha 10 anni Space Hulk vi faremo anche un unboxing per farvi vedere in prodotti GV di 10-15 anni fa cosa c'era all'interno se volete ordinare questi prodotti tanti sarà difficile trovarli ma voi provateci primo link in descrizione in sovraimpressione gioco libreria Semola dal nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori a 79 euro spese postali gratuite in tutta Europa in 24 ore massimo 48 ma di solito in 24 arriva ce l'avete direttamente a casa un po' come fosse un servizio prime ed è gratuito provate comunque a chiedere i giochi l'ho visto nel video di Coridan se non lo trovate in lista scrivete al supporto e gli dite ma ce l'ha ancora Blackstone Fortress ma si può trovare ancora Overkill voi provate magari ce n'ha una copia in magazzino o magari riesce direttamente a trovarvelo tramite la GV o da qualche altra parte fatemi sapere cosa ne pensate e vi porteremo un bel po' di unboxing dei giochi un pochino più vecchi della GV ciao ragazzi alla prossima